Ciao a tutti i campanelli di Youtube, mi trovo a Gavirate, alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista abbiamo un concerto di 6 campane che oggi riprenderò per l'Angelo Sferriolo solitamente nell'Angelo suona la seconda campana, che è quella della mia sinistra ma alcune volte ci sono dei cambi e in questo mezzogiorno riprenderò l'Ave Maria di Lourdes a presto da Campanaro 003 a presto a presto a presto a presto a presto